Sempre più vicina ai propri clienti, Sorgenia offre da quest'anno un'assicurazione gratuita sull'intera gamma dei propri prodotti, rimborsando la bolletta in caso di perdita del lavoro o in caso di un infortunio che comporti la temporanea inabilità a svolgere la propria attività lavorativa. Si chiama Bolletta Protetta ed è la prima iniziativa di questa portata nel mercato italiano dell'energia. Bolletta Protetta è un servizio che abbiamo sviluppato in Sorgenia insieme con l'ufficio di assicurazione, l'ufficio commerciale e l'ufficio marketing. È un servizio che offriamo ai nostri clienti per assicurare le bollette e i servizi energetici. Diciamo che Sorgenia è vicina ai clienti non solo nella fornitura di energia elettrica e gas, ma anche nel momento un pochettino più scomodo che è quello di pagamento della bolletta. Soprattutto lo vuole fare nei momenti in cui il cliente può avere qualche difficoltà in più legata a qualche evento che lo mette un pochettino a disagio. Quindi l'idea è quella di supportarle e di stargli vicino anche in questi momenti. Nell'idea di Bolletta Protetta, proprio perché è un servizio per stare vicino a tutta la nostra clientela, abbiamo deciso di introdurlo a pioggia su tutti i prodotti energetici di energia elettrica e di gas che offriamo alla nostra clientela. Quindi non è mirato ad essere incluso in un particolare prodotto o servizio, ma è diffuso a pioggia su tutti i prodotti della nostra gamma. Quindi copre sia i clienti residenziali sia i clienti partita IVA. E questa forse è un'innovazione di mercato perché Sorgenia ha deciso di essere vicina a tutti i clienti indipendentemente dal prodotto che loro utilizzano.